Fonte di energia, sospetta. Computer, la mia posizione... Computer! Cioè, scusa, mi spieghi che succede? Dove sono? Che succede, amica? Attenzione! Ehi! Wow! Pazze picchia! Che cosa ti ho fatto? Oh! Non è carino. Wow! Tutto bene? Ah, quell'affare deve averti proprio scombussolata. Pazzo è proprio un coccolino adorabile! Ti chiamerò Spavazzo! Per far guardarti sembri proprio uno Spavazzo! Pagherete per aver attaccato Spavazzo! Attenti là sotto! Non so cosa stia succedendo, ma sembra un lavoro per su... Superman È deciso, tu sei con me Sì, tu sei con me